Siamo a Bibi! Non vendrebbe di farvi una vacanza un po' più... un po' più... tosta? Dove vuoi andare? Ci andiamo a fare una montagna lontana... in Africa... Io ci sarei! Cosa senti? Cosa vuoi che senta? Non fare la vittima. Siamo tutti nella stessa merda. I responsabili di questo dolore... che possano trovare la via del pentimento. Allegra! Che stai facendo? Ma sei impazzita? Vieni, ci libertiamo! Va meglio che mi lasci in pace. Io non centro con quello che ti è successo. Scusa, cos'è che mi è successo? Ti conosco le tue cicatrize. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Dicora!